bellissimo vaso fatto a forma di borsa guardate che bello e soprattutto molto comodo da spostare essendo fatto a borsetta c'è anche la possibilità di scegliere il colore in descrizione video vi metto più links di vasi simili così avete la possibilità di scegliere il vaso che vi piace di più questo oggetto non è prime ma vale la pena comprarlo anche da regalare buona la qualità prezzo vi lascio in descrizione video il link affiliato amazon